in questo momento la juventus sta cercando quella solidità difensiva che aveva avuto inizio anno con la coppia gatti bremer e anche con la coppia bremer kalulu ma che poi si è persa un po perché l'assenza di bremer si va a sentire un po perché forse un po gli equilibri da parte della squadra si sono un po persi ecco che però ci potrebbe essere un rimedio ne parliamo oggi con paolo ciao paolo ciao ben tornato oggi parliamo di difesa difesa la difesa è sempre il mio rata la filosofia di giornata filosofia che tra l'altro appartiene molto all'ex allenatore alla juventus ma che non è più l'allenatore all'eventus attualmente c'è tiago motta e quindi la soluzione quale può essere per ritrovare questa questa solità posto che come sempre vi invito a seguirci mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate anche contenuti 10 la vostra qui sotto nei commenti ecco senza breve c'è un problema cioè lo manca un leader e prima ancora di addentrarci in questa situazione che è trovare delle soluzioni che possono magari risolvere il problema al di là del mercato ti dico è soltanto il problema dell'assenza di bremer cioè basta solo un giocatore a far crollare cioè è possibile che si passa da sei partite dove non prendi gol con bremer a ne prendi quattro con l'inter può essere soltanto lui il problema c'è qualcosa di più che non sappiamo non soltanto lui però la sua assenza è troppo importante nel senso che ok che non è il 100 per cento bremer ecco della solidità difensiva delle prime partite la juve però io credo che almeno un 60 70 per cento bremer lo poteva fare dico a prescindere poi dall'organizzazione tattica che ti attreva molta che tra l'altro appunto come dicevamo all'inizio è sempre secondo me è stato visto come un allenatore offensivo ma in realtà fa della fase difensiva un suo punto di forza anche a bologna era così quindi ricordiamo che non chiudendosi mantenendo il pallone ma comunque diciamo che il possesso palla tenere palle è una delle armi difensive che una squadra possa adottare all'interno dei 90 minuti questo è un teorema che secondo me vale ancora e quindi ti dicevo bremer ovviamente abbiamo perso uno dei leader più importanti di questa squadra senza dubbio però diciamo a livello difensivo si vedono comunque delle cose che vanno bene secondo me nel senso che i concetti di Diego Motta li vedo applicati in un certo modo si fanno determinate rotazioni determinati movimenti anche a livello di costruzione dal basso però certo perdere bremer perdi un marcatore perché bremer è bravo nell'anticipo è bravo di testa è bravo nell'attacco alla profondità a seguire l'attaccante che ti parte dietro quindi ovviamente perdendo lui e mettendo ad esempio provando Danilo che è stato un disastro purtroppo per lui che ovviamente non ha più quelle caratteristiche lì è molto diverso da bremer ovviamente non non hanno retto non hanno retto il confronto con alcuni con alcuni attacchi infatti la Juve ha preso praticamente 10 gol nelle ultime partite quindi questo è un problema però diciamo che si potrebbe pensare a degli aggiustamenti a delle possibili soluzioni e quindi da vedere in questo momento secondo me Gattica Lulu però è la coppia che dà più affidabilità sicuramente non Danilo non Danilo centrale esatto ed è proprio per questo che mi rilaccio proprio questa tua frase per proporre diciamo qualcosa magari ne parliamo anche noi così come ne parliamo con Tiavomotta che chiaramente segue tutti i contenuti e sempre lì a prendere appunti perché a noi ci è venuta diciamo un'idea cioè io da inizio anno che continuo a dire che Danilo a mio avviso deve essere utilizzato come il posh di Turco cioè posh nel Bologna che tra l'altro nasceva lui come centrale ma poi è stato posizionato da terzino destro chiaramente bloccato con altri due centrali che poi andavano a formare questa linea 3 che poi dava quella solidità io ho sempre pensato che Danilo dovesse giocare lì cioè non come centrale ma come terzino destro che non è un terzino la Giordi Alba che fa saliscendi ma che è molto bloccato ma pur sempre un terzino perché difendere a tre o difendere da terzino e difendere in una difesa a quattro da centrale è tutta un'altra vota totalmente quindi io credo che in questo Tiavomotta e lo possiamo dire senza troppi giri abbia sbagliato perché Tiavomotta dovrebbe vedere che Danilo è da anni che non gioca in realtà come centrale a quattro non ha mai giocato praticamente no forse qualche rarissima partita con Pirlo ma Pirlo forse lo utilizzava più come terzino destra sinistra e come mediano qualche volta però di certo non come centrale questa secondo me è una pecca ecco secondo te può essere una soluzione anche per riprendersi un po' Danilo perché in questo momento Danilo è passato dall'essere il capitano alla bandiera e quant'altro oggi con chi parli parli Danilo è l'ultimo degli elementi e secondo me è anche ingiusto ti dico la verità e allora ti dico può essere quella di spostare Danilo come terzino a destra o a sinistra dimmi tu può essere una soluzione per recuperarlo e allo stesso tempo per ritrovare un giocatore valido sì sì infatti anche perché Danilo appunto è un giocatore validissimo tra l'altro io credo che lui ne soffra tantissimo sì di questa di questa sua diciamo involuzione in questo momento perché lui è uno che comunque ci tiene alla juventinità si vede perché il capitano ci mette sempre la faccia quando può e l'abbiamo visto proprio affranto diciamo nelle ultime prestazioni che sono state ovviamente super negative tra l'altro ecco a inizio anno per esempio io pensavo che l'acquisto di cabal servisse proprio a questo nel senso che cabal lo abbiamo visto a Verona fare anche il centrale Danilo non l'ha mai fatto anche quando era al Madrid quando era al Manchester City eccetera eccetera e quindi ho detto vabbè allora Danilo sicuramente giocherà a destra prevalentemente con cambiaso titolare a sinistra e pensavo che cabal rientrasse nelle rotazioni tra i difensori centrali invece come dici tu forse l'ha provato una sola volta in amichevole e ha fatto dei disastri esatto esatto però era un amichevole Danilo ne ha fatte tre consecutive disastrose in campionato di Champions League quindi se ha sbagliato Danilo e sta sbagliando anche cabal però diciamo questa tua diciamo mi piace questa idea che hai tirato fuori perché appunto Danilo tra l'altro credo perché diciamo guardando i difensori della Juve dal punto di vista della qualità palla al piede penso sia uno dei più puliti tecnicamente perché vabbè cambiaso non lo conto perché cambiaso fa il tutto campista non lo reputo neanche più a parte lui cabal ha quel qualcosina diciamo di qualità anche palla al piede però Danilo secondo me è quello che come dici tu giocando magari terzino destro e bloccato ti può anche consentire un'uscita di palla più pulita quindi questo potrebbe essere un'idea e poi giocando bloccato e avendo ad esempio cambiaso dall'altra parte si può attuare una rotazione che permette di diventare quasi una difesa a tre con cambiaso che si alza tra i centrocampisti questa diciamo è una cosa che ormai è modernità non è più avanguardia ormai ne parliamo come se fosse tutti esperti di tattico però in effetti sono cose visibili quando tu vai a guardare una partita lo vedi che c'è sempre uno che si alza e uno che ruota e quindi c'è sempre questa rotazione che avviene in tutte le squadre non solo nella Juventus quindi sì potrebbe essere un'idea e un modo anche per appunto far riprendere un po' Danilo dal punto di vista anche morale cioè perché se crescono le prestazioni cresci anche dal punto di vista morale e tutto poi viene bene ecco quello è il punto quindi è una soluzione che può portare diciamo a una solità ritrovata e anche un ritrovare Danilo e con Caballo che potrebbe fare il centrale ti dico e invece Savona potrebbe sentire fare anche lui il centrale con magari Savona centrale al fianco di un gatti per esempio o è una cosa perché lui in next gen qualche partita centrale l'ha fatto però un contro in next gen non contro certo ovviamente queste sono categorie diverse a livelli diversi questo è ovvio diciamo che ho qualche dubbio perché appunto dal punto di vista della personalità non so quanto possa andare da centrale non che non lo possa fare perché magari col tempo può essere pure anche ancora molto giovane esatto è giovanissimo quindi lo si può plasmare ecco come si vuole in un certo senso però non lo so io ho forti dubbi su questa cosa qua cioè sul fatto di Danilo terzino bloccato la vedo un po' meglio anche perché diciamo se proprio dobbiamo dirla tutta se fai una cavolata da terzino hai comunque i due centrali che ti possono coprire soprattutto i centrali di destra mentre se la fai da centrale di difesa è il motivo per cui ti dico mettiamo da canto esatto esatto però Savona ancora non lo vedo vedo ancora più Caballo che rientra tra i centrali non Savona perché credo che anche abbia una struttura fisica che lo porta più a fare il terzino anche di spinta devo dire anche se comunque è una bella struttura sì 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 secondo me può farlo anche il terzino di difesa centrali moderno lo può fare senza dubbio però ancora magari tra qualche anno vedremo intanto chiedo ai nostri amici qui sotto cosa ne penso di questa soluzione tattica che almeno momentaneamente può risolvere perché poi è chiaro che a gennaio te mi interviene sul percalato lo devi prendere ne abbiamo parlato ne parleremo ancora tanto però da qui a gennaio c'è per arrivare perché al di là della sosta poi comincerà un periodo con tante partite poi non è che il mercato il difensore te lo porta il 2 gennaio esatto è possibile che il mercato o meglio la trattativa il 25 gennaio esatto e da lì dal 1 al 25 gennaio c'è anche la supercoppa di me esatto bravo c'è anche la supercoppa poi c'erano tante partite quindi bisognerà capire come come fare per cui chiedo a voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate analizziamo un po' la sessione della difesa di Targumentus anche qui sotto nei commenti insieme a voi e io direi fate come Tiago Motta attivate la campanella bravo Tiago Motta Tiago Motta segui vai tra questo video vedrà ma come li vede tutti esatto quindi se poi nelle prossime partite c'è Danilo Terzino sappiate che sappiate che parte d'acqua parte da parte d'acqua parte d'acqua e quindi partite anche voi iscriviti al canale lasciate like i contenuti ciao ciao